Questa mattina ci siamo recati in una stazione dei Carabinieri per presentare una istanza che è stata contemporaneamente presentata all'International Criminal Court, Corte Penale Internazionale, l'abbiamo presentata perché è una denuncia estremamente importante, che cosa denuncia? E' circostanziata perfettamente quello che avevamo già fatto 4-5 mesi fa in maniera prospettica di rilevanza europea per il Tribunale Internazionale dell'AIA. Questa denuncia è stata preparata in maniera adeguata dal noto avvocato di diritto comunitario, esperto di diritto comunitario Maurizio Cerchiara, che ci assiste sistematicamente nelle nostre denunci. Mentre stavamo presentando questa denuncia, cercando di invitare anche la Procura di Roma a interessarsi per quanto di queste inadempienze attiene alla situazione che si è venuta a creare in Italia. E mentre stavamo parlando è uscita fuori una interessante notizia, e questo facciamo uno scorso così, tanto chi lo vuole vedere la vede tranquillamente su Alba Mediterranea, che tu metterai quanto prima. Stavamo comunicando tra di noi di un video molto importante che è stato pubblicato su Striscia la notizia e da Striscia la notizia è rimbalzato su Facebook. Si tratta praticamente di un comportamento che direi come minimo ignobile, ignobile che ha interessato… Di stampo dittatoriale ovviamente. Ma i dittatori sono più seri, insomma. Cose di questo genere, immagini con uno Stalin che fa scenette da peracottaro o venditore di noccioline come questi qua. Stalin ti piglia quello che gli andava a fare la petizione e dava il disturbo e il giorno dopo quello si trovava… In Siberia. O in Siberia o alla Lubianca, scegliere a volontà quella gente seria. Qui sono invece una manica di bufoni. Allora, mentre l'attuale Presidente della Repubblica faceva un suo intervento in una nuota scuola per educande e una persona degnissima era intervenuto per presentare una petizione. Invece di fargli presentare la petizione alcuni energumeni sono arrivati, diciamo energumeni ma io vorrei dire anche i bravi di Donald Bolt. L'hanno preso, l'hanno portato via e siccome questo faceva resistenza, giustamente, chiedendo per quale ragione lo portavano via, lui è stato trascinato, gli hanno rovinato i vestiti e quant'altro. Allora, questa è una cosa schifosa. Allora, mentre stavamo dicendo queste cose, noi le diciamo di nuovo e citavamo il caso, il fatto che questo è l'attuale Presidente della Repubblica, è notoriamente figlio di un noto personaggio che stava nella manica di Gio Bonanno, detto Gio Bonanno, e ne abbiamo tutte le prove che volete, cari amici. Gli avvisi che non sanno della storia della mafia italo-americana o italo-newelchese dovrebbero sapere che Gio Bonanno fu quello che è stato rappresentato nel padrino numero due, cioè fu quello che portò tutte le sue ricchezze a Las Vegas, niente meno. E lì ci stanno ancora, con grande giubilo dei vari... De Frank Sinatra, Dean Martin, quell'altro, quel negretto, il ballerino negretto, che era negro e ebreo, e ti immagini che meraviglia. E stanno tutti là, che chi è morto, che è vivo, ci lascia completamente indifferenti. Dicevamo queste cose quando un piantone, il piantone di questo caserma, se l'è presa con l'amico Orazio, perché per offese al Presidente della Repubblica. Allora, dico la mia, perché è importante che la dico. No, per il libendio del... No, aspetta, no, aspetta, ecco qui, ecco qui, eccolo qui, dopo lo leggo, eccolo qui, dopo lo leggo. Allora, l'imputazione era offesa e prestigio al prestigio del Presidente della Repubblica, italiano e dell'istituzione della Repubblica. Allora, dico subito la mia, perché è importantissima. Prima di tutto, legittimo il comportamento di quel piantone, perché obiettivamente ha sentito, è il suo dovere oltre tutto, intervenire. Io, infatti, l'ho ringraziato. Dopo tu direi tutto, è il suo dovere intervenire. Però io ci aggiungo un'altra cosa, è la presenza di questo Presidente della Repubblica che offende il popolo italiano. E la Repubblica, e le istituzioni. E me stesso. No, ma aspetta, non solo questo ultimo, tutti i Presidenti della Repubblica, tutti, perché guarda Ciampica che ci ha venduto la Banca d'Italia, Napolitano, figlio bastardo di Casa Savoia, di Umberto II di Savoia. Cioè, uno più delinquente dell'altro. Se non sono delinquenti, non li assumono. Allora, senti, circa questa cosa, nella vita, lo dico anche per i nostri amici. Nella vita ci sono delle conferme incredibili. Il tempo è il maggior giudice, è il miglior giudice in assoluto. Sì, ci sono conferme proprio nei fatti. Basta avere un po' di orecchio. Allora, mi è capitato di parlare del passato Presidente della Repubblica con una persona la quale era impiegata in un negozio e che in un negozio dove ci andava spessissimo la sorella dell'attuale ex Presidente, la quale vi raccontava che lei, quando era bambina, riceveva moltissimi regali in continuazione, dolciumi, regali e quant'altro. Io, per me, è stata proprio la conferma, no? La conferma. Per vie traverse. Per vie traverse, perché voglio stare sempre con le orecchie attenti. Dopodiché me ne ho dette due. Una, che andatevi a informare chi era Joe Banana. Cercate quale è stato il giornalista che è andato a intervistare Joe Banana poco prima che morisse e che ha documentato che nella sua stanza, nel suo ufficio, c'era una bellissima fotografia ben incordiciata in cui Joe Banana dava la mano al noto, notissimo ministro dei trasporti del governo De Gasperi, che è stato più volte ministro dei trasporti del governo De Gasperi, Bernardo Mattarella. E adesso la parola all'amico Orazzi. Sì. Allora, tienimi lontani che sennò andiamo... Va bene, va bene, ma ci devono sentire. Scoppia il video. Allora, questo è l'atto ufficiale, l'atto ufficiale. Non avvicinarlo. Va bene, ma tanto non devono vederlo di qui. Va bene. Allora, poi dopo lo metto su internet e lo trovate lì. E infatti, lo devono sentire. Perché se non si legge in qua? Allora, ecco, qui che cosa si dice? Si dice, dopo quello che ha anticipato l'amico Giorgio, l'anno 2016 a D03 del mese di febbraio alle ore 12, in questo ufficio, avanti sottoscritto il maresciallo, effettivo al reparto in interstazione, si dà atto di procedere all'identificazione delle seguenti persone indagate a seguito dell'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica Italiana dell'instruzione. Fatto avvenuto in data 3 febbraio 2016 alle ore 11 circa, presso la sala d'attesa della stazione Carabinieri di Roma la Stolta, alla quale richiesta di fornire la propria giornalità di quant'altro possa servire a identificarla, previ avviso delle conseguenze penali di cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false, dichiama di essere Orazio Ferniani, io lì sono di casa, quindi sanno benissimo chi sono. Adesso è vero, non è un problema. Eccetera, eccetera. La stessa denuncia viene inviata, essenzialmente l'articolo 161 del codice di procedura penale, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni con l'avvertimento che è obbligato a comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna di difensore di fiducia o d'ufficio, eccetera, eccetera. Resedotto di quanto sopra di eleggere il domicilio, nominare il difensore di fiducia, eccetera, eccetera. Verbale chiuso alle ore 12 e 11. Allora, che era successo? Era successo... L'abbiamo già detto. Sì, come dicevamo appunto, Giorgio aveva anticipato, parlavamo del fatto del servizio di striscia alla notizia in cui si vede il responsabile della terra dei fuochi, l'associazione della terra dei fuochi che chiedeva di essere... L'associazione, non del responsabile dei fuochi... L'associazione... L'associazione che rappresenta le vittime, i bambini morti di cancro per colpa di questi mascalzoni dove ancora vanno alla grande e noi cercheremo di fargli bruciare il bucio del culo a quelli... E lui, questo signore di cui non so il nome, andava a perorare la sua causa avendo l'occasione di notificare al Presidente della Repubblica questi atti che lui intendeva consegnargli e invece di essere accreditato come lui aveva chiesto per poter parlare con il Presidente della Repubblica l'accredito non gli fu dato, lui si accomodò nel palco del pubblico e invece di essere lì ad ascoltare il Presidente della Repubblica che cosa hanno fatto? I cari scherri, i cari bravi della situazione hanno trascinato fuori con le cattive maniere con le peggiori maniere, questo amico di cui non ricordo il nome. Nostro amico è una persona che noi stimiamo moltissimo e che con questo comportamento si dimostra che la terra dei fuochi è organizzata e fatta dai complici dell'attuale Presidente della Repubblica. Assolutamente, quindi allora io poi mentre c'era il maresciallo che raccoglieva la denuncia del suo sottoposto e che io ringraziavo e rimanevano meravigliati perché il maresciallo mi chiedeva scusa di fare questa cosa contro di me, io ho detto no lo devi fare perché l'altro ieri lunedì mi è arrivato l'atto di notifica dell'avvenuta archiviazione tombale dopo che l'anno scorso a luglio del 2015 avevamo chiesto, avevamo fatto opposizione alla richiesta di archiviazione del PM che dopo due anni di indagine non aveva rilevato che dopo 350 pagine fra documenti e denunce aveva detto sì, i reati ascritti sossistono, sono veri, è inconfutabile che siano avvenuti e che i fatti si siano realizzati nel modo in cui li hai descritti, però questo lo diceva il tenente della guardia di finanza che ci aveva ascoltato, però il suo colonnello che invece riteneva anche lui che i fatti sussistevano però diceva il Presidente della Repubblica, i primi ministri, i ministri parlamentari sono una banda di perfetti idioti perché siccome sono incapaci di intendere di volere il dolo non c'è, ma a me che cazzo me ne frega se il dolo non c'è o non c'è, tu devi sapere che c'è il dolo, se non lo sa il Presidente della Repubblica e i suoi consulenti, i suoi professori universitari che gli fanno da consulenti, ma chi cazzo lo sa? Esatto. E quindi, questo è il discorso, il colonnello ha sentenziato così, il procuratore della Repubblica non ha potuto aspettare altro, non chiedeva di meglio per poter andare assolti questa banda di infami che noi denunciamo costantemente. Ora però arriva insperabilmente, sempre lì per via traverse, questa mia chiamata in reità da parte di questo piantone, il quale mi denuncia per avere io oltraggiato e vilipeso il Capo dello Stato. Ripeto quello che ha detto Giorgio, qui se c'è qualcosa di vilipeso è qualcuno che vilipende, il qualcosa è la Repubblica, le istituzioni è il popolo italiano. Chi vilipende è questa banda di infami capitanate in questo momento da quel figlio di gran puttana, mafioso, e lo ripeto un'altra volta, di Sergio, Mattarella e compagni. Scendendo giù da Matteo Renzi e tutti gli altri. Ecco, questo adesso lo metteremo ovviamente online, spero che il Presidente della Repubblica lo veda o qualcuno dei suoi consulenti e ci denunci, che finalmente si riesca a incardinare questo processo, che finalmente andiamo di fronte a un tribunale e gli diciamo qua tutto... Come a molti giornalisti, glielo diciamo fin da oggi e soprattutto estrisce la notizia. Ah certo, e quindi ecco, che finalmente ci sia un processo. Vediamo chi vince. Allora, per concludere, dal punto di vista abbastanza consistente, io voglio far vedere questa cosa, perché me la porto dietro da qualche giorno. È un libro che consiglio ai nostri amici perché dimostra come il popolo dei Pelle Rossa, un grandissimo popolo, è un popolo che ancora si difende e ancora contrattacca dopo i massacri che i loro signori gli hanno fatto. Il libro è di Dario Fo, eccolo qui, in collaborazione con molti altri che c'è scritto qui. Voglio leggere semplicemente le poche righe in commento al libro. I film di Hollywood raccontano le vicende degli indiani sconfitti, ma ignorano la storia dell'unica tribù che non si è rese mai, i Seminole, una società matriarcale e pacifica, nemica della schiovitù con protagonisti dimenticabili. Come John Orse, un nero scatenato, capace di truffare i bianchi e di conquistare alla causa del suo popolo gli schiavi delle piantagioni facendo comizi spettacolo. O come Mae Tiger, condottiera meticia che organizzerà una decisa ed energica azione culturale. O James Billy, veterano seminole del Vietnam che dovrà affrontare a ritorno in patria il nemico più insidioso, la droga, e per difendere la sua gente sbaraglierà le truppe del narcotraffico. Un'incredibile storia di resistenza umana e comunitaria. Lunga secoli, dai primi insediamenti in Florida, allo sbarco dei conquistatori spagnoli, alle battaglie contro le truppe inglesi e poi statunitensi. Ma lì non l'hanno mai potuto scominare, perché lì c'è l'Evergreen, e quindi lì non lo cazzo hanno, lì devi venire dentro la valuta e nella valuta io comando. Esattamente. È scritta come un romanzo da un grande ribelle del nostro tempo e con questo io qui chiudo. Cari amici, con un ottimo starnuto salutiamo il Presidente della Repubblica. Aug, 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 sempre so long e sempre grande rispetto e onore al grandio Priapo e al grandio Manitù. Bene, so long.